Inaugurato il 29 febbraio, giorno del compleanno di Giochino Rossini, ed ora pronto a riappropriarsi della sua tradizione rossiniana dal prossimo 7 di agosto, serata in cui aprirà il Sipario sul 45esimo Rossini Opera Festival. Sarà infatti l'Auditorium Scavolini il luogo d'ouverture del ROF nell'anno di Pesaro Capitale della Cultura con la nuova produzione di Bianca e Falliero. Non a caso l'edizione 2024 del Festival è stata presentata oggi proprio fra le mura del rinnovato impianto pesarese dove il ROF torna 19 anni dopo l'ultima volta. L'ultima volta è stata nel 2005 per cui quasi 20 anni di chiusura, però diciamo che è tornato bello con una buona acustica e insomma ce lo stiamo godendo. Il ritorno finalmente all'Auditorium Scavolini, storico Pala Festival, il Teatro Rossini che anche l'anno scorso per le varie ristrutturazioni in corso c'era mancato particolarmente e naturalmente la vita di Frigo Arena avendo quattro titoli quest'anno insomma avevamo bisogno della massima forza e potenza di fuoco di tutti i teatri. Quindi diciamo chiaramente l'evento con Bianca e Falliero del ritorno, la ripresa dell'equivo stravagante al Teatro Rossini e la doppia di debutto dell'Ermione con Michele Mariotti, con Diego Florez, un grandissimo cast anche qui alla Vitri Frigo assieme alla ripresa del barbiere di Pierluigi Pizzi. Dal 7 al 23 agosto sarà un festival extra large con quattro giorni di kermesse in più nonché cinque opere anziché le tradizionali quattro. Fra queste le due nuove produzioni di Bianca e Falliero ed Ermione e le due riprese dell'equivoco stravagante e delle barbiere di Siviglia. Era l'occasione giusta per fare una edizione più larga, tant'è vero che faremo 30 spettacoli al posto dei soliti 23. Era giusto e doveroso farlo in occasione appunto di Pesaro Capitale della Cultura ma oltre ad avere un'opera in più in cartellone abbiamo anche tanti altri concerti e quello sul quale ho molta curiosità è sentire l'ultimo concerto quello che celebrerà i 40 anni della prima volta del Viaggio Remis quello che nell'84 diresse Claudio Abbado. Programma concertistico e operistico accompagnato da un'attenzione alla sostenibilità. Da qualche anno abbiamo praticamente azzerato l'uso di bottigliette di plastica nel nostro festival abbiamo dotato tutti di borracce e di distributori d'acqua quest'anno abbiamo un Green Partner che ci consente di viaggiare nei nostri spostamenti soprattutto quelli del Salon Rossini in tutta la provincia ci muoviamo con auto elettriche e anche le auto in dotazione del festival grazie al nostro partner Diva sono tutte auto appunto elettriche. Altra parola d'ordine del festival è inclusività. Il 15 agosto ci sarà una replica di Barbieri di Siviglia con anche l'ausilio di alcune innovazioni che consentiranno alla comunità dei ciechi di poter ascoltare e assistere all'opera anche con dei contributi speciali per poter rendere la loro esperienza più completa. La inclusività significa anche aver cercato di abbattere quanto più possibile la soglia economica soprattutto per i più giovani quindi una politica dei prezzi di grande attenzione verso i giovani sotto i 14 anni i ragazzini possono venire a festa spendendo solo un euro sotto i 30 anni 30 euro in tutti i settori quindi cercare di abbattere l'ostacolo economico che sappiamo essere un ostacolo reale per molte categorie di persone ma soprattutto verso i giovani abbiamo cercato di azzerarlo ma è anche inclusività le diverse iniziative che facciamo a favore della popolazione i concerti dal balcone di Casa Rossini, Salon Rossini, i concerti al museo sono tutte iniziative che mirano a espandere quanto più possibile il nostro pubblico soprattutto in un anno in cui ci aspettiamo che a Pesaro ci siano tante persone attirate da capitale della cultura e che potranno accorgersi di un evento così straordinario come il Rossini Opera Festival pur non essendo esperti o appassionati d'opera ma con l'augurio che lo possano diventare